Prima esterna e rovescio per Serena che tiene il primo turno di battuta Eccola qui la prima di servizio 30-15 perché abbiamo fatto un servizio sul rapporto fra giocatori, fra sportivi in generale e i propri allenatori E alla fine tiene il servizio Lascione Altro errore gratuito di Serena Vedendo un po' di immagini della settimana scorsa quando ha vinto il golcoast battendo la nana in finale Dweiss Fa buona guardia vicino alla rete Entrambe una partita un po' sfilacciata però nel complesso ha fatto una discreta impressione E' andata a prendere Uh attenzione, attenzione si è fatta male Si è fatta male Serena, ha preso una stotta alla caviglia destra Quando dopo aver preso la palla corta dell'Ascione Bloccando il piede per evitare di andare a finire contro la rete le si è stortata la caviglia destra Ecco qui si rivedrà sicuramente Qua ha fatto una grande cosa, un gran recupero E' ancora qui sulla demigole smorzata Guardate Qui ancora, ecco dopo, avete visto il passo dopo Serena ha male alla caviglia Questa davvero non ci voleva Non ci voleva e per questa partita e per la sua partecipazione all'Open Australia Qui tutto bene Ecco su questo passo a sinistro e sguardate la piede destro Ecco si è intravisto per un attimo La caviglia si è proprio piegata, una stotta alla caviglia Ecco da questa immagine probabilmente si vede meglio Non qui, adesso quando appoggi il piede destro Hop, la caviglia che si gira Questa è proprio la classica stotta alla caviglia In attesa che arriva il medico ci fermiamo un attimo Allora, vediamo il doppio fallo della Shonesi La cosa in avanti è stata buona E' interessante vedere anche come si Bene servizio la Shonesi Ecco qui subito una grandissima accelerazione di diritto Quindici Pieno a zero il servizio E sale Trejo Serena Williams Uno spostamento Cos'è stato uno spostamento abbastanza violento Che prova ad arrampicarsi sullo smash a rimbalzo della Shonesi Oh che gran risposta Ancora una volta Sì però siamo un po' nel caso di Primi Con un ace il terzo della partita Andiamo a seguire la partita A vedere come vada per Serena Che qui ancora una smofia di dolore Poi avremo come detto dei tabelloni dell'Australiano Un ace molto dubbio questo Un ace molto dubbio questo Il volo Questo è un bellissimo diritto della Shonesi Qui non c'entra niente Sbaglia di diritto Serena Quanto cuore la Shonesi impressionante Lo scambio più bello della partita Facciamo così con Mark Verstegen Che fa parte dell'istituto Che fa parte dell'istituto Tiene servizio la Shonesi Come in questo caso Ogni tanto va bene Ogni tanto va male Giocato un passante in piena corsa Smette Smette Serena Si ritira La partita è finita qui Forse anche sul consiglio del medico Serena Williams ha deciso di non andare avanti Evidentemente anche per non compromettere le sue chance All'Open d'Australia Che inizia lunedì a Melbourne È una decisione con la quale È difficile non essere d'accordo Nel senso che è una decisione Che si può assolutamente capire Visto che aveva male Visto che c'è l'Open d'Australia che arriva E questo vuol dire che Megan Shonesi Segna in finale 5 a 4 il punteggio nel primo set Poi il ritiro di Serena Williams E Megan Shonesi si ritrova in finale Avendo fatto davvero poca poca fatica Esce comunque sotto gli applausi Serena Williams Niente da fare per lei